Merda! Anda! È incredibile che sia vivo. Sembra che lei lo abbia lanciato da una finestra del quarto piano. Ed è sopravvissuto. Il tizio ha dei santi in paradiso. Lasta era ben sorvegliato. Non dalla shoreline. Non da noi. Dico solo che non dovremmo sottovalutare questa gente. Ma nemmeno lasciarci intimorire è più detto tutto. Sam. Sì. Vai! Sì. 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 Sì.